Musica Esportiamo 4.0 Esportiamo 4.0 è il nome del progetto di confartigianato a imprese Prato dedicato a tutte le aziende che intendono guardare a mercati estri avvalendosi di un gruppo specializzato capace di valutare, sviluppare e gestire il percorso di internazionalizzazione Nato tre anni fa grazie al contributo della Camera di Commercio il progetto si è arricchito e viene rilanciato in modalità 4.0 con un approfondimento sull'opportunità per le imprese di utilizzare gli strumenti digitali per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti Il progetto sarà presentato pubblicamente domani alle 18 presso l'auditorium dell'Associazione in Viale Montegrappa Abbiamo rinnovato questo percorso iniziato qualche anno fa di accompagnamento delle aziende artigiane verso i mercati internazionali è un percorso che ha visto in un primo momento l'affiancamento delle aziende con un temporary export manager e adesso si è arricchito di tutta quella parte del 4.0 legata alla digitalizzazione e all'informatizzazione è un percorso che non solo consente alle imprese di porsi su mercati internazionali ma anche di accrescere la propria capacità di essere imprenditori di fare analisi all'interno dell'azienda e quindi di essere più competitivi nei mercati interni e internazionali bisogna tirar fuori qual è il valore aggiunto quindi io non devo vendere tutto il mio catalogo non devo vendere tutto quello che produco ma io devo essere molto bravo a capire che valore porto con il prodotto che faccio è di tutta la mia collezione devo tirar fuori magari solo uno e posizionarlo sul mercato ecco perché lo chiamiamo 4.0 perché è un passo avanti l'imprenditore deve fare qualcosa e non ha mai fatto non deve aggiungere ma deve togliere, togliere, togliere per arrivare all'essenza del suo valore aggiunto di quello che può portare e spingere quello da lì nasce il marketing se l'imprenditore non capisce questo non è che resta fermo, muore quindi è un passo obbligato deve fare come se fosse un grande non c'è altro da fare deve lavorare come se fosse un'industria Durante la presentazione due imprenditori che hanno aderito al progetto porteranno la loro testimonianza si tratta di un'azienda del meccano tessile di un'azienda del settore alimentare che vuole portare i propri prodotti di eccellenza anche all'estero Siamo riusciti anche ad aprire un po' la mente di nostro padre e anche a riuscire ad indirizzarci in mercati che prima di allora magari non venivano considerati perché c'erano quelli storici per quanto riguarda il tessile soprattutto i macchinari tessili erano l'India, la Turchia adesso invece ci siamo comunque allargati grazie a Patrizia verso il Brasile verso altre realtà che fino a qualche anno fa erano meno diciamo conosciute Noi esportiamo già da anni però in piccola quantità abbiamo dei clienti diretti perché abbiamo fatto delle fiere e quindi il nostro piccolo sogno era quello di aumentare un po' la nostra gamma all'estero non soltanto con il prodotto di punta che facciamo la mortadella di Prato IGP ma anche per gli altri prodotti che produciamo solo noi i salumi di Calvana grazie a tutti grazie a tutti